Musica Bollo auto, nella seduta straordinaria del Consiglio è stata approvata la legge che elimina le agevolazioni per il noleggio senza conducente. Nel weekend del 12 e 13 novembre fa il suo debutto la 36esima mostra a mercato del tartufo bianco delle crete senesi a San Giovanni d'Asso, la presentazione dell'iniziativa. Bollo auto, le novità. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le modifiche alla legge sulla tassa automobilistica. Approvati anche gli emendamenti in aula presentati dal Presidente della Giunta, Eugenio Gianni. Il provvedimento passa con 22 voti a favore Partito Democratico e 14 voti contrari. Italia Viva e i gruppi di opposizione Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana domani. La discussione in aula si è aperta con la richiesta di sospensiva presentata dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, in quanto secondo i proponenti la proposta di legge non rientrerebbe nella casistica d'urgenza citata nel comma 3 dell'articolo 126 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. La richiesta è stata respinta dall'Aula. Il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, ha dunque illustrato la proposta di legge che tocca tre aspetti. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del bollo auto. La prima, la più significativa in termini numerici, riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento, ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo, ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana, venga corrisposto, analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli, il bollo direttamente alla Regione Toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche. Non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo, ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche. E da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Una volta era necessario avviare un iter amministrativo per poter godere della sospensione del pagamento della tassa, con i diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti per poter affruire di questa sospensione, oggi al momento della trascrizione e dell'accessione automaticamente si produce l'effetto sospensivo. L'incremento delle entrate derivanti da questa modifica è stimato di 9 milioni e 200 mila euro, a cui vanno sottratte le minori entrate legate alle altre due modifiche, quella relativa all'esenzione per le automediche e la seconda riguardante la concessione automatica delle sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita, venduti o radiati. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, ha ribadito il suo scetticismo sul carattere di urgenza del provvedimento. La Lega ha votato contro la proposta di legge del PD, non tanto perché eravamo contro a togliere il 10% di sconto per chi ha dei veicoli a noleggio, quanto piuttosto critichiamo e fortemente il metodo. Dubitiamo seriamente del carattere di urgenza di questo Consiglio, perché tutti sanno che entro il 10 di novembre eventuali modifiche sul bollo auto devono essere adottate dalle regioni. è stato chiesto un Consiglio straordinario di urgenza, quindi convocato di proposito con i costi che ha un Consiglio straordinario, la motivazione e la richiesta di urgenza da parte del Presidente Gianni era la necessità di adeguarsi ad una legge, la legge numero 504 del 1992. Cioè è dal 1992 che le tariffe del bollo auto si fissano entro il 10 di novembre, il Presidente Gianni il 2 di novembre si rende conto di non aver fatto l'adeguamento delle tariffe del bollo auto e convoca un Consiglio di urgenza per farlo il 2 di novembre. Primo punto. Secondo punto, cosa si va a fare? Si va a stabilire che in Toscana dal primo di gennaio del 2023 chi ha un'auto a un noleggio a lungo termine dovrà pagarci sopra il bollo auto, cosa che fino ad oggi questo non veniva fatto. Chi è che ha auto con il noleggio a lungo termine? Professionisti, imprenditori, partite IVA, categorie che mi pare che negli ultimi anni di vessazione ne abbiano già avute abbastanza. Queste figure dal primo gennaio del 2023 dovranno pagare anche il bollo auto. Eteravia ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse che sono 9 milioni di euro a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, di colori che più di altri stanno soffrendo. E quindi noi avevamo detto fin della settimana scorso che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione. Quella condizione che queste risorse, siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio, potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia. Riteniamo che questo sia una cosa ingiusta. Non servono queste risorse per pagare il buco della sanità. Se questo c'è, deve essere spiegato se esiste o se non esiste. E quindi su questo ci chiediamo chiarezza. Ovviamente la maggioranza di governo è regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori, sui nostri principi. La Giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a mettere le mani nelle tasche di partite IVA, piccolissime imprese fatte anche da una sola persona che sono quelli del noleggio auto a lungo termine, ad esempio, per ricavare 9 milioni di euro che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a Toscana Aeroporti come il ristoro, salvo poi sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista. Un'altra cosa molto curiosa è che vengono chiesti questi 9 milioni in più dalle casse che vengono comunque, sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la Regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente. Eugenio Gianni, presidente della Giunta con delega al bilancio ha presentato un emendamento che prevede l'esenzione del bollo per i genitori o coloro che svolgano funzione genitoriale dei minori trapiantati di organi o di tessuti. Il bollo auto per tutti i cittadini rimarrà per l'anno prossimo esattamente quello che è ora. La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio quindi una nicchia, una categoria molto precisa perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se le imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della Regione nel momento in cui cambia la legge nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri proprietari ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale. L'ordine del giorno del PD primo fermatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli impegna la Giunta a prevedere che i maggiori proventi derivanti dalla modifica della legge sulla tassa automobilistica siano destinati già a partire dalla prossima manovra finanziaria per l'anno 2023 per il rafforzamento territoriale del sistema sanitario regionale. Noi abbiamo pensato di allegare un ordine del giorno al provvedimento che ci ha trovato favorevoli per quanto riguarda l'eventuale utilizzo nell'ambito del prossimo bilancio di queste risorse che verranno recuperate. Per noi è importante tenere ben presente avere priorità per quanto riguarda l'agenda sanitaria e per quanto riguarda l'agenda sociale della regione. Le famiglie stanno soffrendo le persone sono in difficoltà la sanità toscana è la più pubblica che abbiamo in questo paese siccome presumiamo che il governo non allocherà maggiori risorse tra l'altro per quanto riguarda la sanità almeno questo dalle prime dichiarazioni che sono state fatte noi pensiamo che mettere risorse per quanto riguarda il rafforzamento della sanità territoriale dei servizi rivolte alle persone più fragili per quanto riguarda il rafforzamento dell'agenda sociale sia dare riscontro a quelle che sono le maggiori esigenze e le maggiori emergenze che le fasce più deboli della popolazione stanno attraversando della destinazione delle nuove risorse che arriverebbero grazie alle modifiche alla legge sul bollo auto ha parlato Elisa Tozzi che ha presentato un ordine del giorno per chiedere che esse vengano utilizzate per l'erogazione di contributi per l'efficientamento energetico degli edifici e dei cicli produttivi delle aziende toscane l'ordine del giorno è passato con 15 voti a favore di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione come dire definita quasi inaspettatamente è stato approvato è passato diciamo al voto dell'aula un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente dava cercava almeno di dare una risposta alle imprese ovvero prevedendo che queste risorse andassero ad essere destinate per quanto riguarda diciamo interventi strutturali per far fronte a carobollette o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi a noi sembra che oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive e quindi di conseguenza l'occupazione debba essere una priorità abbiamo come dire scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece alla sanità che già copre l'80% del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione La mostra del tartufo bianco Il davante bianco ha avvarcato le porte di Palazzo del Pegaso per la presentazione della 36esima edizione della mostra mercato del tartufo delle Creti a San Giovanni d'Asso uno degli eventi più antichi a livello nazionale tra quelli dedicati a questo fungo ipogeo A presentare l'evento in conferenza stampa sono stati il presidente e il vice presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e Stefano Scaramelli quasi quattro decenni dedicati al tartufo bianco delle colline senesi che dividono il Chianti dalla Val d'Orcia e quest'anno l'appuntamento è nei weekend 12, 13 e 19, 20 novembre per una festa ricca di proposte tra paesaggi inconsueti della campagna senese e prodotti tipici del territorio è una delle perle della nostra bellissima Toscana saranno due weekend pieni di iniziative per far conoscere sempre di più la prelibatezza del tartufo bianco delle crete senesi saranno giorni importanti per la nostra regione sarà un momento in cui provare a tenere insieme la nostra idea di Toscana perché qui c'è tutto il buon tartufo nasce cresce di dove c'è un territorio salubre quindi consentitemi di dire grazie grazie al lavoro che ogni giorno viene svolto dai tanti tartufai grazie alla Proloco per organizzare questo evento grazie all'amministrazione comunale e saluto anche colgo l'occasione il neosenatore Silvio Franceschelli sindaco di Montalcino e credo che questo sia uno di quei momenti che portano il nome della Toscana fuori anche dalla nostra regione ed è bello sapere che tutto questo è possibile grazie all'impegno di tante donne e tanti uomini che portano diciamo con il loro lavoro portano in alto il nome della nostra regione la festa si terrà in un piccolo borgo medievale che circonda il castello di San Giovanni d'Asso dove nei sotterrani c'è il primo museo italiano dedicato al tartufo per vivere l'esperienza sensoriale e imparare a riconoscerne gli aromi sprigionati si terranno appuntamenti per tutti i gusti dallo square food stand gastronomici delle eccellenze locali dove pranzare e cenare a chilometro zero alla cena del tartufo insieme ai tartufai senesi e i loro cani e per chi invece volesse vivere esperienze di altra epoca non mancherà un antico treno a vapore che partendo da Grosseto e da Siena condurrà attraverso una ferrovia non più in servizio fino al castello di San Giovanni è il famoso treno natura ideale per scoprire insolite paesaggi della campagna senese molte saranno le occasioni per conoscere il territorio e i suoi prodotti tipici lungo il borgo infine non mancheranno visite ad aziende agricole al museo del tartufo cantine frantoie caseifici trekking fra boschi e campagne ci siamo concentrati soprattutto su quelle che sono la valorizzazione stessa del territorio la valorizzazione del prodotto tartufo portandola all'interno di due bellissime cene degustazioni cene di gala che saranno fatte nelle sere del sabato e porteranno appunto delle grandissime innovazioni unite alla tradizione del territorio partiamo alla grande è un evento che è molto atteso diciamo dagli amanti culinari principalmente del nostro territorio metteremo in bella vista diciamo tutti i preziosi prodotti che ci sono nel nostro territorio come sapete noi abbiamo questo riconoscimento del distretto rurale di Montalcino e saranno diciamo i principi tutti i prodotti del territorio la collaborazione sarà con il consorzio del Brunello con il consorzio dell'Orcia e ovviamente il principe sarà il tartufo bianco noi siamo stati i primi a dire che facciamo la festa solamente con i tartufi che troviamo in zona quindi da noi non si trovano commercianti sono solamente i nostri tartufai che siamo circa 240 iscritti che portiamo i nostri tartufi che troviamo nel nostro terreno di tutta la provincia di Siena a chilometro zero grazie al terreno che abbiamo è la sua conformazione ovvero sia è molto rotondo quindi non è molto increspato e quindi quando si va a pulirlo c'è pochissimo spreco e poi il profumo signori il nostro profumo si riconosce questo non lo dico io ma lo dice anche la città di Alba che abbiamo portato i nostri tartufi al loro centro sperimentale che hanno detto che è magnifico quindi credo che è un punto a nostro favore Grazie a tutti